salve a tutti razze razze e benvenuti in questa nuova recensione di questo film horror che io non ho mai visto ma l'ho visto grazie a play on picture qua abbiamo il blu ray il film è dall'universal pictures però la distribuzione qua in italia se ne occupa play on pictures questo film o me ne hanno parlato di tutti ore visto non l'hai visto io ho detto ma lo dovrò vedere al cinema non ci sono andata e quindi ho aspettato uscissi in blu ray ho detto ma se è caso mai me lo piglio nel senso me lo sarei comprato perché ero molto curioso questo film voglio anche salutare un mio carissimo amico che mi aveva detto vedilo vedilo un film che vale davvero la pena e divertente è così eccola ovvero antonio tofani che ha un suo canale youtube che si chiama horror room 2004 vi consiglio veramente di iscrivervi al suo canale che è un ragazzo preparatissimo e anche gentilissimo educatissimo e soprattutto ne sa di film horror e ora parliamo di questo abigail fatto dai registi no che sono alla loro casa distribuzione radio silence che mi hanno sorpreso quando uscì all'epoca nel 2019 però finché morte non ci separi mi era piaciuto tantissimo perché rompeva un po le varie regole che siano create dell'horror fino a quando sono usciti a mettere mano anche su scream che sono erano le persone giuste proprio per avere in mano scream secondo me craven avrebbe dato l'ok sui prodotti che hanno portato ovvero scream 5 e ovvero scream 5 che poi viene detto scream 2022 e scream 6 si sono fermati e come sappiamo no scream 7 è passato a uno dei creatori di scream che era lo sceneggiatore insieme a craven e quindi è passato loro ciò che cosa facciamo e cerchiamo di farci un qualcosa di nostro un po come è stato finché è morto non ci separi quindi avevo le aspettative molto alte e vi dico soltanto che sono state cazzo tutte quante rispettate non mi hanno deluso nuovamente hanno fatto un qualcosa di ben fatto e fatto anche col cuore con la passione si vede che questi qua c'hanno la passione c'è proprio la voglia di fare qualcosa bene e so contento spero che continueranno sempre così nel lungo andare ho sempre io le api che mi rompono le scatole mentre faccio i video ritorniamo a parlare di abigail che qua ci sono anche degli attori conosciuti già nel panorama horror abbiamo l'attrice no pronunista di frighi che io l'apprezzo tantissimo abbiamo la barrera no che è stato pronunista in scream 5 e 6 e come sappiamo non la vedremo nel 7 insieme a ortega ma si tornerà col cast originario no con con la prescott ma tornando a parlare degli attori c'è stato anche l'attore che questo film io lo lo devo ancora portare ci ho fatto la recensione ovvero the guest uno dei miei film thriller preferiti e dove ci sta proprio lui io non vi dico che parte fa però qua è lui quello con gli occhiali chi ha visto the guest sa di cosa sto parlando è stato bello vederlo anche qua la ragazzina veramente è spettacolare cioè bravissima proprio qua facciamo ci rendiamo conto che i ragazzini e ragazzine hanno veramente tanta voglia e certamente sono anche più bravi degli attori adulti questo mi serviva per la copertina ragazzi non lo so fanno dimmi sapere vabbè ritornando a parlare adesso film la trama è a quanto semplice e sembra anche scontata però la cosa bella di di radio silence è proprio questo ovvero prende una storia no quasi no vista rivista in altri film e mescolare in qualcosa di contorto e diverso dagli altri quasi quasi non voglio voglio che la gente si incavoli però mi ha fatto un po pensare un po come lucio fucci prendeva i film e lì prende modellava a modo suo non lo so di radio silence non lo so ogni volta prendono un qualcosa e lo trasformano in un modo qualcosa di diverso stessa cosa di questo film vero abbiamo questo gruppo di sequestratori con la barrera l'attrice di friki che ha fatto anche lisa franken è veramente bravissima lei insieme a quello di questo è tutto il gruppetto no di altri attori che sconosco gli altri sì l'ho visto in qualche altro film ma non mi viene in mente un titolo proprio precisamente su questi attori quindi dovranno rapire questa ragazzina che sembrerebbe veramente ricchissima il padre sembra proprio navigare nell'oro e quindi trama già vista rivista no è fatta di andare a rapire una ragazzina e poi cercare di di avere il riscatto io non so se durante sto video io verrò attaccato di altri insetti mi sono un po' rotto le scatole quindi non è una ragazzina normale non è che voglio far spoiler anche dalla copertina si capisce che sta ragazzina non è una classica ragazzina in difesa di 12 anni ma è una ragazzina che si sa molto difendere e ci sono tante tante situazioni la trama va a virare in qualcosa di diverso dal solito nel senso che ci sarà un motivo perché loro sono lì per questa per questo rapimento e veremo a scoprire un po' anche dietro questi personaggi che si chiameranno in nomi diversi all'interno di questo castello e ci sta pure cacchio Giangaro l'esposito non mi aspettavo che lui per niente gli da apre queste porte a questo castello dove dovrebbero rimanere per 24 ore in questa ragazzina e chiedere questo riscatto di 50 milioni di dollari e devono tra virgolette sopravvivere fino all'indomani senza telefoni senza internet senza niente devono rimanere lì dentro Giangaro l'esposito si fa vedere per poco però ha sempre la sua presenza davvero scenica è sempre bello vederlo io lo ricorderò per sempre per tutti tutti quando lo ricorderanno sempre per gas di Breaking Bad che ora guarda se non avete visto Breaking Bad non mi fate incavolare eh ritornando a parlare di Abigail mi è piaciuto tanto anche la fotografia mi ha ricordato un po' la fotografia che ho utilizzato in Finché è morto non ci separa non so se è lo stesso direttore fotografia mi piace questo giallognolo perché ti dà un'atmosfera proprio questo fatto del castello no un po' come Finché è morto non ci separi mi è piaciuto proprio questo colore giallastro di questa fotografia mi è piaciuta non è quella fotografia patinata o blockbusterosa cinematografica proprio si vede un film tipo impegnato un horror impegnatino nel senso di fotografia mi è piaciuto parlando del comparto audio veramente soddisfatto soddisfatto l'ho visto io in una sound per 2.1 però penso chi ha un impianto molto più serio del mio penso che godrà tantissimo l'audio arriva anche in 7.1 in italiano dolby diger plus quindi non abbiamo ne dolby atmos non vi aspettate però fa la sua la sua figura la fa importante che si sente bene parlando del comparto video del del blu ray anche quello bello bene bene si vede benissimo c'è bello chiaro io l'ho visto un proiettore full hd nativo e e stiamo parlando il mio proiettore nel proiettore della madonna santissima il proiettore da 100 euro presi in offerta 55 e veramente me lo so visto una goduria è stato parlando anche degli attori delle dei personaggi penso che siano un po tutti riusciti a parte un po il fattone non mi ha ispirato però tutti gli altri personaggi sono dove funzionano un po tutti a parte anche il bisteccone un po il classico biscono un buon rincoglionito poi ci abbiamo secondo me è un po i vari personaggi è un po vuole mettere i classici passatemi termine personaggi che si vedono nei film nel senso la la dark ettona che rona quello lì che prende un butta fuori bisteccone da 120 chili cioè hanno messo varie cose che si vedono nei veri film però sono stati caratterizzati secondo me abbastanza bene anche la barrera barrera un po così l'ho vista non l'ho vista molto tanto convinta non sto film però la ragazzina porca di quella puttana è stata bravissima c'è veramente brava mi è piaciuta tantissimo c'è veramente vedere queste ragazzine in questi film horror come anche megan anche lì veramente sono state bravissime mi fa capire che praticamente hanno se continuo così possono avere un grande futuro e secondo me abichael potrebbe avere un grande futuro speriamo di avere anche un sequel che potrebbe penso che sia andato bene il film al cinema se non mi sbaglio però se ve lo siete persi al cinema ragazzi non è un horror proprio bello cioè non è proprio l'horror che pensate voi proprio terrificante è un horror commedia quindi anche se voi avete paura degli horror so film lo potete vedere tranquillamente perché è un horror commedia sì bello spatteroso sanguigno braccia che è buono gole strappate di tutto e di più ma non è terrificante ecco non fa paura è un film che si lascia guardare proprio perché diverte e secondo me è un po come gli altri prodotti di radio silence ovvero dei prodotti soprattutto come scream che non deve far paura che si ironizza quasi nell'horror anche come è stato secondo me lo loro diciamo inizio che l'hanno lanciato è stato proprio il film come vi ho detto spesso e vi consiglio di recuperare ovvero finché i morti non ci separi peccato non esiste il blu ray perché sta su disney plus potrebbero farlo il blu ray io me lo comprei porca miseria quindi ritornando al film fa contenti un po tutti il film dura anche due orette non proprio abbondanti abbondanti togliendo secondo me le scritte finali un'ora e 45 un'ora e 50 oh ma scorre velocemente scorre velocemente sì ok l'introduzione dei personaggi potrebbe essere un po lenta è vero potrebbe essere lenta ma appena appena prende piede è un continuo accadere di cose inaspettate questa è la cosa mi è piaciuto di questo film che inaspettato non tante cose che accadono ho detto alla madonna non me l'aspettavo e questo è difficile vedere un film horror negli ultimi anni che quest'anno quali sono i film che mi hanno sorpreso so poche niente nel senso sorpresi sì ci sono stati bei film horror che sono usciti ma parlo di film horror non prevedibili ecco di solito sono tutti un po prevedibili e penso che non sbaglio mi potete dare ragione anche voi stessi che sono un po prevedibili invece questo film non è prevedibile e mi rompe le scatele lui fatto uori e nuori usatemi perdonatemi e sono all'aria aperta non è un green screen quindi mi arrivano insetti è arrivato forse il parente si il parente non c'è più il parente forse era la compagna non so povero gabbiano ha perso la compagna questo penso che dopo questa io la era meglio evitare quindi niente ve lo consiglio e ve lo consiglio sì peccato forse da una parte cosa è stato meglio non vedere la cinema perché almeno me lo sono goduto appieno senza battutacce della gente quindi cazzo se non ve lo siete visto a cina compratelo in blu ray o in dvd e ve lo godete bello a casa senza nessuno vi scassa la minchia vi preparate vi ordinate il mac vi ordinate una pizza ve fate i poppocorn a casa se risparmia e vedete in alta qualità e godete tutti insieme io come sempre vi ringrazio vi saluto vi invito a lasciare tanti 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 like perché questo è anche grazie a voi quindi penso aver detto tutto quello dovevo dire e noi ci vediamo sempre a un prossimo video ciao 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 ciao